Un pronto soccorso psicologico per pazienti oncologici. È un'iniziativa della Ollus Aquilana L'Aquila per la Vita che consentirà di promuovere la formazione psicologica del personale medico-infermieristico afferente alle strutture ospedaliere e territoriali relativamente alla comunicazione con i pazienti nelle varie fasi della malattia per poi inserire lo psicologo nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL e tenerlo a disposizione per interventi relativi e coordinati con l'attività esterna. Il protocollo d'intesa tra la Ollus L'Aquila per la Vita, l'ASL e l'Università è stato sottoscritto oggi in comune alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi che si commuove ricordando Mauro Zafferi. Le borse di studio infatti sono dedicate a lui, socio storico dell'Aquila per la Vita. Voglio dire una cosa alla quale noi teniamo e dell'Aquila per la Vita che le due borse di studio che finanzieremo sono dedicate a un nostro socio fondatore che rimane nei nostri cuori, nei cuori di questa città, cioè Mauro Zafferi. Il progetto ha lo scopo di sostenere i malati oncologici prima, durante e dopo la malattia perché il supporto psicologico è un elemento fondamentale anche per sconfiggere il male. La gestione economica del progetto sarà a totale carico dell'Associazione L'Aquila per la Vita che metterà a disposizione due psicologi. La selezione dei due psicologi e il conseguente conferimento delle borse di studio avverrà tramite selezione. Il bando sarà pubblicato sul sito dell'Università dell'Aquila. Il compenso complessivo previsto per la borsa di studio è di 22.000 euro per singola borsa di studio. Ancora una volta l'Aquila per la Vita a disposizione della città e a due giorni dalla presentazione della fisioterapia che verrà fatta a casa per le donne operate di tumore al seno, un altro tassello importante si aggiunge all'attività della Ollos che ormai fa parte del DNA della città dell'Aquila. Continua questa importantissima collaborazione tra l'Ase e l'Aquila per la Vita. Noi siamo veramente orgogliosi e onorati che questo avvenga. Anche oggi l'impatto che avranno questi interventi per noi e per le persone che ne saranno coinvolte saranno particolarmente rilevanti. Quindi io dico solo grazie all'Aquila per la Vita, il loro impegno. Noi lo apprezziamo molto e li ringraziamo di avere queste sensibilità nei confronti della nostra ASL.